Nella mia vita sono arrivato quasi per caso a fare questo lavoro e quindi vi posso raccontare le tappe che mi ci hanno portato e col senno di poi che probabilmente sono un bagaglio che poi io nel corso degli anni ho utilizzato. Ad esempio il linguaggio, essendo alle soglie del 2020 direi che una pecca io l'ho avuta ma questi ragazzi, la nostra platea di oggi non può più averla, una buona conoscenza e pratica di una barra due lingue straniere, questo è diventato fondamentale in qualsiasi settore. Invece comunicazione è saper dire poche cose ma bene. Sappiate che nel vostro lavoro, qualunque sia, quando dovrete comunicare dovrete dire semplicemente la verità e in quel momento vi dovrete anche ricordare di dirla bene perché la verità detta male è peggio di una bugia, ma una bugia detta bene è solo un'enorme fregatura. Guardate, questa del mettere la mano sulla spalla si chiama prossemica ed è l'arte dello stare vicino agli altri ed è una cosa che non insegnano più. Sicuramente se vi ricorderete di mettere o nel riceverla o nel congedarla una mano sulla spalla voi avrete raggiunto in quel momento il massimo grado della comunicazione che potete fare con una persona malata. Se il vostro istituto si fosse chiamato Pietas sarebbe stato ancora meglio per raccontarvi quello che bisogna provare quando si è di fronte ad una situazione di disagio di qualcun altro. è un modo di provare a stare vicino alle difficoltà che quello di fronte a voi ha. non è provarne pietà come una frettata traduzione potrebbe portarci a pensare. Ecco, secondo me non c'è nulla nella nostra società che possa esporre più a Pietas che non la persona malata. Ricordarvi di quella famosa mano che voi potete, quando volete nella vostra vita, mettere sulla spalla di un'altra persona. Quella è la Pietas. Ecco, io vi direi state sempre curiosi. La forte curiosità è alla base di ogni forma di conoscenza. Restate curiosi in tutto ciò che fate e vedrete che ne trarrete sicuramente dei vantaggi.